Cesar! 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 Eccole cose! E? Ah! Mai Gord! 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 Noi mai giovani ti piace! Non c'è Veronica mi piace! Sara vi piace il principe vi piace Doncio Rocchini vi piace a chi vi piace vi prendete per il culo allora vi prendete per il culo qualcuno lo dava per meglio sicuri dai portatemi i messaggini portatemi così amico 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 adesso il primo blu che vedete ho detto ragazzi vi porto a scuola in chiesa che la dovete di scoperta Buongiorno ragazzi! Buongiorno ragazzi! Buongiorno ragazzi! Buongiorno ragazzi! Buongiorno ragazzi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.